Premetto che è un mondo enorme, premetto che è un mondo enorme, uno parte dicendo che è carino, faccio due sbirgoli, invece è un mondo gigantesco, c'è un sacco di tipi di colori, un sacco di tipi di tecniche, puoi anche fare dei colpi di luce, ovviamente questi colpi di luce rigorosamente quando è asciutto, altrimenti viene uno strano grigio non definito. Questo è solo il grito, metto dei fantastici puntini che ci stanno sempre bene, ok? E poi magari a fianco sono molto carini, questi soliti carini puntini decorativi, anche a mo' di fiore, vedi? Che fanno una specie di nebbiolina, l'importante è che li fate fuori dal disegno, non dentro al disegno. Poi magari con il retro del pennello prendo un po' di rosa, se sei capace a farlo è velocissima. Lo che succede sempre è che magari ve ne accorgete dopo, guardi in alto, qua sotto non è dipinto, succede quasi sempre. Quindi li faccio, vedi, di punta, a volte non è il massimo, chiudi. Il bordo potete farlo nero, colorato, mi piace di più. Il bordo potete farlo nero, non è il bordo potete farlo nero, non è il bordo potete farlo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.